Milano, settimana della moda, siamo con Fabrina Giambotti di Donnamoderna.com Cosa avete organizzato per questo Fashion Week? Ciao a tutti, Donnamoderna.com anche quest'anno non poteva mancare alla Milano Fashion Week Stiamo seguendo in diretta su tutti i nostri canali mediatici le sfilate con i video, le pasterelle in diretta, i backstage, i VIP e tante altre curiosità Ci racconti qualcosa di Divami? Divami è un'iniziativa che teniamo qui a Milano, in Piazza Liberty, in cui invitiamo tutte le nostre utenti, che ormai sono 4 milioni in Italia a venire a trovarci per vivere un'esperienza da vera diva Con tanti accessori possono vivere l'esperienza di essere Grace Kelly o Marilyn per uno scatto fotografico Grazie alla nostra collaborazione con Chicissimo abbiamo delle stylist che per noi aiutano le nostre elettrici a pettinarsi grazie alla Compagnia della Bellezza che effettua delle pettinature da diva e a vestirsi con gli accessori più adatti e poi abbiamo il set fotografico in cui le nostre utenti si possono sentire protagoniste e l'esperienza da diva non finisce qui perché poi saranno protagoniste sul sito di donnamoderna.com E per chi non è in Milano durante la Fashion Week cosa avete pensato di fare? Ovviamente abbiamo pensato anche alle nostre utenti che sono fuori Milano e quindi abbiamo organizzato online una bellissima iniziativa che si chiama Divami e che permette a tutte le elettrici di postare sui social network da Twitter a Pinterest a Instagram la propria foto con l'hashtag Divami e mostrando se stesse in pose, in abbigliamento da vere dive e quindi rendendole partecipi tutte sul nostro sito donnamoderna.com anche se non riescono a venire qui fisicamente a trovarci Qual è la tua diva preferita? La mia diva preferita è Audrey mi chiamo Sabrina quindi non poteva non essere così